Mi preferisco entrare più nei carceri, capire come si vive, che non è come tanti pensano un motel a 5 stelle, entrare dentro, vivere magari più, non dando qualche settimana quella esperienza e poi caderemo. La libertà è una cosa bellissima, non ci apprezza, e comprarla non ci apprezza. Sono trascorsi i migliori anni, nel mio caso, i migliori anni della vita, trascorsi in carcero.